Ciao ragazzi e benvenuti in questo video ricetta un video un po' strano in base a quello ai video che generalmente faccio ma ci tenevo a condividere con voi una ricetta di biscotti che mi ricordano la mia infanzia perché sono biscotti che faceva mia mamma mia nonna eccetera eccetera nelle discendenze i biscotti in questione sono biscotti alla carruba come vengono realizzati con soltanto due ingredienti senza lievito senza zucchero aggiunto soltanto sciroppo di carruba e farina lo sciroppo di carruba adesso non sto qua a spiegarvi tutto il procedimento come farlo non so dove si compra non so nemmeno se lo vendono io ce l'ho perché me l'ha dato mia madre perché ancora c'è qualcuno che lo fa spiego velocemente come viene realizzato bisogna triturare le carrubbe in piccoli pezzettini metterli a mollo nell'acqua a macerare per 48 ore dopodiché vengono strizzate tutta l'acqua che rimane nel nel recipiente viene messo a cuocere per diverse ore fino a quando non si restringe quel liquido rimane uno sciroppo quello sciroppo lì adesso vedrete come si utilizza per farli diventare dei buonissimi biscotti senza lievito aggiunto infatti vanno impastati e lasciare riposare 24 ore quindi una lievitazione naturale e vi garantisco che il risultato è spettacolare infatti vi faccio vedere adesso uno senza lievito ma come vedete sono venuti alti e gusto buonissimo non danno con fiore di stomaco perché non avendo non avendo lieviti quindi adesso seguite la ricetta buonissimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.